Consiglio comunale di San Salvo, allargato al Consiglio comunale dei ragazzi, per dire che cosa? Intanto per fare esercizio insieme ai ragazzi di democrazia, di partecipazione, abituarli e abituarcela alla cittadinanza attiva. Questi sono i motivi veri per cui ci si riunisce insieme il Consiglio comunale dei ragazzi con quello degli adulti. E poi per infondere il coraggio di credere nella loro generazione, la forza delle loro idee, la capacità di esprimere con libertà i loro pensieri e perché no anche i loro sogni. E soprattutto per dare a questa città che lo merita la speranza del futuro ben incarnata da questi giovani ragazzi.